Ciao ragazzi, dicoci qua di nuovo su The Simulazione dei pompieri dell'aeroporto Allora, prendiamo questo qua, lascia, l'estintore, e questo qua, l'altro non devo prendere, no, l'estintore già preso, no Ok, incendio, l'inverno sta arrivando tre anni fa Eh, sto dormendo, eh Tutto ha lievitato Ok, iniziamoci 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 tutto Ok, siamo vestiti Allora, la stanza vai, per la stanza recreativa Allora, la stanza vai, per la stanza recreativa Questa è la stanza recreativa Questa è la stanza recreativa Questa è la stanza recreativa Buenissima Questa è la stanza recreativa Questa è la stanza recreativa Questa è la stanza recreativa Che figata quella neve però Ok, andiamo a liberare questa pista, un atterraggio d'emergenza L'inverno sta arrivando Questa è la stanza recreativa Questa è la stanza recreativa Questa è la stanza recreativa Qui si chiama la stanza recreativa Ok ecco l'aereo sta arrivando guarda come! no! non do l'aereo! ecco l'aereo! porca vacca! benissimo ecco l'aereo! estinguere tutto ecco l'aereo! ecco l'aereo! Grazie a tutti. 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 Adesso abbiamo risolto mare in fiamme, il presente. Ok, siamo arrivati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo sopravvissuti. E apprendi la maniglia. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. vediamo. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. vediamoci qua. a tutti. a tutti. vediamo la missione. Andiamo ragazzi alla missione. Andiamo ragazzi alla missione. ok? no siamo soli ok? ah siamo soli ok. Ah erano già qua. ecco le lini. Ah, andiamo a briefing E così qua Dopo tutto l'equipaggiamento Allora L'hast in turn L'hast in turn Ci prendiamo quando c'è un cassa Qua invece Dovebbe esserci L'hast in turn E l'hast Questa facciamo accorci E le material Oh, là Eccoci Ok Ok Altro caricamento ragazzi Entriamo nella cabina Dell'aereo Eccoci va Ok Let's get the fire under control Otherwise we won't be able to get through here Then let's not waste any time Let's go Ok 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 la donna interessa distinguere il fuoco porta l'assistente assistente non c'è nessuno qua non posso posso popar non posso non posso a guardar ah un pentolo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.